Confucio, 551-479 a.C., filosofo cinese, promotore di un pensiero inedito nel panorama culturale cinese del VI-V secolo a.C., in massime, dice, Zizang chiese come si dovesse comportare. Il maestro disse, sforzarsi di mantenere lealmente la parola data e comportarsi con riverenza è il comportamento da tenersi anche nei paesi dei barbari, del nord e del sud. 15,5 Commento Il comportamento suggerito da Confucio è permesso a chi ha raggiunto un puro stare. A chi ha moderato le aspettative dell'Io, a chi sente che non esistono movimenti esterni ma solo interni che diventano esterni.